Benvenuti a tutti sul mio canale, io sono Nancy e oggi parliamo di... In un'intervista al Corriere della Sera, Lorella Cuccarini ha raccontato che ha dovuto combattere nel 2002 contro un tumore avendo subito l'asportazione della tiroide con conseguenti oscillazioni di peso. Questo si è rivelato un momento difficile sia a livello fisico che mentale. Ne sono uscita grazie a cure mirate. L'alimentazione ha contribuito, non poco, a rimettermi in sesto. Mi sono ritrovata con determinazione e lo sguardo fisso sui valori che contano, come quello della convivialità che era lì, andava solo riguadagnata. Nel tempo ho seguito diversi regimi alimentari a volte sbagliando. L'importante è essermi ritrovata. Grazie. 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 Grazie.